Ben arrivati, sono Mario Fiasconaro, rappresento l'omonima azienda Fiasconaro, l'azienda è formata da tre fratelli, vedete alla mia destra un rappresentante della famiglia Martino, lato commerciale, c'è Nicola lato produttivo e Fausto che sta per raggiungerci, che si occupa, è un po' il manager di Piazza Margherita, dà il benvenuto nei nostri negozi di Piazza Margherita dove abbiamo il laboratorio di pasticceria, gelateria e la vendita delle nostre produzioni. Siamo un'azienda specializzata nello specifico in dolci lievitati da ricorrenza, quindi panettoni e colombe, ma abbiamo un parterre di prodotti che produciamo tutti rigorosamente in Sicilia, marmellate, confetture, mieli, torroni croccanti, torroni morbidi, eccetera, eccetera. Il nostro core business è comunque il panettone, in questo caso affettiamo un agrumi e zafferano di Sicilia, agrumi cosa abbiamo? Limone, arancia, abbiamo il mandarino e lo zafferano delle madonie, dove lo andremo a scaldare leggermente e lo combiniamo con le granite, quindi non possono mancare le granite che sono un po', adesso con l'inizio della calura si sta per avvicinare l'estate, facciamo questo matrimonio di panettone con le due tipologie di granite, abbiamo mandarino e limone, quindi sempre in tema agrumi, sempre in tema prodotti del nostro territorio. Siamo qui al Cibus, ormai è una fiera che facciamo da tantissimi anni, stiamo presentando nuove creazioni, abbiamo 15-18 tipologie di prodotti dilivitati, quindi il piacere è di salutare i nostri distributori, i nostri partner, i nostri nuovi clienti e voi in queste giornate di fiera, insomma. Presentiamo il prodotto nuovo, ciliegie di Castelbuono e Fragoline che è la nuova creazione per il prossimo Natale, la collaborazione con la Dolce Gabbana che è ormai avviata da qualche anno e sempre più si è rafforzata, abbiamo 3-4 prodotti in collaborazione, nient'altro, adesso lasciamo le chiacchiere per far parlare il palato, che ne pensate? Sono la parola palato! È stato un piacere!